uno dei must del solstizio d'estate a roma è la piramide cestia che riceve luce dal sole su tutte e quattro le facce questa è la faccia sud quella che normalmente è illuminata dal sole questa invece quella est anche questa sorge del sole o dopo viene illuminata ma quella che invece non viene quasi mai illuminata se non verso il tramonto quando l'azimuth del sole è abbastanza grande è quella nord e adesso andiamo a vedere quali sono le condizioni dell'illuminazione sono le ore 13 e 55 del 13 giugno ed eccola la facciata è in fase di illuminazione radente vedete che ci sono degli spanciamenti sul bordo che mostrano una struttura un po' irregolare ma ben sotto controllo dall'ultimo restauro che è stato fatto cinque anni fa queste sono le mura aureliane che hanno incluso la piramide adesso andiamo a vedere anche la faccia ovest che è in piena luce il nome e io devo avvisa Grazie a tutti.